Pubblico in estasi per il red carpet della terza giornata della 71esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sul tappeto rosso sfilano Michael Shannon, Andrew Garfield e il regista Ramin Barani del film 99 Homes sulla storia di un giovane padre di famiglia sfrattato dalla sua casa da un agente immobiliare. I divi hollywoodiani si sono trattenuti a lungo con i loro fan. A seguire il tappeto rosso di She's Funny That Way, la commedia intelligente di Peter Bogdanovich. Comicità sofisticata quella del film che vede i protagonisti Owen Wilson, Jennifer Aniston, Catherine Hahan e la giovane rivelazione Imogen Potts. Sul tappeto rosso Owen Wilson, Catherine Hahan e il regista. Wowela! Be there, be there, be there! Look up! Ohhhh! Grazie a tutti! Grazie a tutti!